In questo video due cacciatori preferranno uccidermi. Ogni 8 minuti il gioco ci dropperà dei random item, solo e scrivamente per la singola persona. Ed è l'unica possibilità che abbiamo per ottenere l'item. Se noi distruggiamo un blocco non ci dropperà l'item, però il blocco si distruggerà. Dentro le ceste possiamo anche trovare dei item e possiamo anche utilizzarli. Più passa tempo più la verrea si stringe, in più abbiamo solo la vita a testa. Io per vincere dovrò uccidere tutti e due, loro per vincere dovranno solo uccidermi. Riuscirò a sopravvivere. Nello scorso episodio avevo detto che altri mila scritti avrei caricato la gran finale. Dato che siamo cresciuti così velocemente e non sono riuscito a mantenere la parola, in questo video vedrete due partite. Cosa ti facendo? Perché... Anche io. Anche io. Anche io. Levati. Levati. No, perché devo scrompire? Ok? No. Cos'è, cos'è? 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 Dove ho aquesta? Eh? Guarda, ti pesco. Dale su. Oh! NOOooo! E' inul Ti diverti? Cosa? Ti diverti? Ti diverti tu? Ti diverti? Ti diverti tu? Mi stai divertendo voi due? Si Lui c'è la lava Si Si Ok Io do' stare solo attento a Alix che c'ha la lava Ma cosa che non lo so usare? Dammi la lava Ah no non posso prenderla Qua è l'idiotta di Waze Gai 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 no, l'ho messo contro non se l'aspettava il ragazzo eh escursione dalla, eh perchè avete due cose poi? io ne ho solo una mettila, mettila, mettila vai mettila, mettila nooo, non l'ho presa mettila, prenda io, sei stupido ok dai vieni, vieni nooo metti, 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 metti facciamo altri inutili, si mi dai mi dai secchio ma no, giusto dove sta andando? eee eee com'è andato? è lì, ma chi c'ha coso lì? ma che c***o, ma che c***o lo sto negando oh ma dove si vede? io sono legato giù sta scappando ma che c***o si fai? vieni qua ho capito che è la tua terra però oh nooo ma c'è un po' piano ah ok vuoi c***o ragazzi nooo nooo oh 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 ma nooo ok sono bello armato ragazzi non vuoi c***o tanto sei morto dai ci do un po' di asma guarda free armatura giuro trattura oh free armatura oh voi valgato nooo oh shay oh no go let's go di nuovo basta l'acqua basta c***o andiamo a cercare andiamo a cercare la terra andiamo a cercare la terra infatti cosa chiedi? stiamo già andando stiamo già andando scusami questa è la quinta partita con l'acqua torno allora se entro tre minuti non troviamo terra cambiamo direzione c***o oh c'è la barca metti la barca arrivo 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 come ti vuoi? andiamo è la terra ferma ci combattiamo nella terra ferma ricco che è più semplice trovare vai è la terra ferma dai serio dai 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 andiamo andiamo lasciamo qui andiam andiamo andiamo 한데 ti ho sp歡迎 andiamo 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 ok ah sono gli albero dì no che cosa oh my god andiamo in tarraferno e poi succede questo no, chiedelo chiedelo, chiedelo, ho trovato la angia, ho chiedelo adios, amigos, adios no, non ci credo, c'è già l'arma perché te ne stai andando dalla terra? perché l'ho trovato un pixel, come era? no, non è chiaro fermarci qua, fermarci perché non è chiaro, lui muore sì, sì, va bene e se io non vado? siamo qui a navigare due idioti due idioti barca unica barca unica barca non ne avevi tante? ne ho preso due come ne ho preso due? ne ho preso due ne ho preso due, stavo nuotando una ve l'ho rubato non ho parole condiviso un attrezzo adesso ti condividi te oppure a me guarda cosa cos'hai? non lo vedo beh, va bene, non importa mettilo, mettilo cos'è? è lì è niente qua lo vedi ora scendi, scendi, scendi scendi ho scelto, ho scelto non lo vedo non lo vedo non lo vedo via lì che f*** oh oh non lo vedo è una barca, bro che è la barca, idiota ahah 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 raga, siete dei comici ahah siete dei comici ecco una barca riuscite no cavolo io penso una barca c'è già la barriera bravo oh 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 wow cos'hai troppato quello è mio quello è mio è mio? è mio? è mio è mio what the f*** cos'è? dove sei? dove sei? guarda 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 so hard vieni 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 mi vieni vieni è un pino è un pino è un pino è un pino mi vengono a picchiare coi stivali di netherite dici si where are you? e se io questa vinco? ecco lì 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 l'ho visto ma non vedo l'omino vedo una barca non sarebbe senza l'omino e se questa la vinco? no 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 è impassibile impassibile dici? si impassibile dici? tu l'ultima volta è andato male eh? con quel livello che hai per favore l'ultima volta l'ultima volta è chi che è morto eh? ti ha detto di non seguirmi e sei morto vuoi fare la stessa fine? non vi consiglio di seguirmi non ricordo non ricordo niente di quello che è successo non ricordo niente di quello che è successo non ricordo niente di quello che è successo te lo sei stognato sicuramente vuoi che c'è le prove eh? no 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 è nel mio canale? è nel mio canale? no prove fasulle non ci credo da poco morite lo sapete? non ce la faremo mai scorda non ce la faremo mai a prenderlo ovvio ovvio io sto guidando l'amboggini come? giù ma per favore io c'ho la Porsche qua oh tu vedi? la Porsche eh già si vedono i tuoi piedini fuori dalla barca è il nuovo modello è uscito è appena uscito l'asforce system mi piace terra vista ha so tu le ti do pero ma吸 ok si 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 se non che fai che che oh mo che che no che Ma cosa sta facendo? Allevati ti prego! Vai vai uccidelo, uccidelo E' fermo, è fermo E' fermo E' in barca Ma dove eri qui? Vieni dal barca Quanti cuori avevi? Io ho Io ho chi? Oh e adesso è lui dietro, non sta capisciando niente E' sotto E' sotto E' sotto